Gentili signori e signori, buonasera e benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Reporter. I disastri naturali sono anche un problema sociale. Ne parliamo insieme al dottor Giovanni Sgnauline, che è in collegamento video da Venezia. Ci sia un uragano è un problema naturale, ma che siano tutti questi migliaia di vittime e di disastri è un problema sociale. Esempio, il terremoto non si può certamente evitare, ma che delle costruzioni di migliaia di anni fa nel Machu Picchu, per esempio, resistono ancora, il Colosseo di Roma resiste ancora. Quindi è un problema sociale il fatto che le case vadano giù o che, per causa del terremoto, ci siano inondazioni e allagamenti. E poi casomai ne affronteremo un'altra volta questo problema più intensamente. Ma parlando proprio del problema del tifone delle Filippine, c'è una notizia che è passata un po' in sordina, non è stata rilevata dai media, ed è quella che riguarda il rapporto del Global Footprint. Chi è questo Global Footprint, che è l'impronta ecologica? È un'organizzazione, un'associazione che ha come scopo vedere e osservare quali sono i limiti delle sopportabilità del nostro pianeta nei consumi che noi facciamo e nel pianeta la possibilità di riproporli costantemente in continuazione. Ecco, lui diceva, il Global Footprint diceva che il 20 agosto l'umanità ha esaurito le risorse naturali rinnovabili che aveva a disposizione per il 2013. Quindi siamo arrivati al 20 agosto. Che cos'è questa impronta ecologica o Global Footprint? È un indicatore utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle. L'impronta ecologica quindi misura l'area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria per rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e per assorbire i rifiuti prodotti. Utilizzando l'impronta ecologica è possibile stimare quanti pianeta Terra servirebbero per sostenere l'umanità qualora tutti vivessero secondo un determinato stile di vita. Confrontando, quindi abbiamo la possibilità di confrontare anche l'impronta ecologica per individuo, per collettività, eccetera. Come si fa? Un semplice esempio. Per calcolare l'impronta ecologica si mette in relazione la quantità di ogni bene consumato. Diciamo esempio grano, riso, mais, cereali, carne, frutta, verdura, radici, tuberi, legnami, eccetera. Con una costante di rendimento espressa in chilogrammi per ettaro. Il risultato è una superficie espressa quantitativamente in ettari. Si può esprimere l'impronta ecologica anche da un punto di vista energetico considerando l'emissione di biossido di carbonio espressa quantitativamente in tonnellate e di conseguenza la quantità di terra forestata necessaria per assorbire le suddette tonnellate di CO2. Quindi è un calcolo un po' difficile da fare, però tiene in considerazione questo. Quanta terra ci vuole, quante risorse ci vuole per mantenere un individuo, quanto mangia un individuo, quindi quanta terra c'è bisogno, ma questo individuo produce anche dei rifiuti, produce anche CO2. Quanta foresta ci vuole? Sappiamo che la CO2 viene eliminata attraverso la fotosintesi, quindi gli alberi, eccetera. A proposito, proprio oggi c'era la notizia che la deforestazione dell'Amazonia nei confronti del 2012 è aumentata del 28%, questa per costruire pascoli, per fare gli hamburger che andranno a mangiare quelli degli Stati Uniti, cioè al nord, o per creare biodiesel, cioè per dare da mangiare non all'umanità, ma per dare da mangiare ai motori. Non so se socialmente sia valido questo. E quindi questa global footprint, ma chi sono questi? Sono delle persone, dei dilettanti, sono degli hobbysti che dopo il lavoro si interessano di queste cose, o sono persone qualificate? Beh, sì, il Global Photoprint collabora attualmente con 22 paesi, tra cui l'Austria, Brasile, Canada, Cina, Finlandia, Francia, Germania, Italia, eccetera, eccetera, e con agenzie governative. In Italia collabora col Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e del Biosistema dell'Università di Siena, l'Istituto di Cerche Economiche e Sociali della Regione Piemonte, la Società di Cerca e Consulenza Ambiente Italia SRL, la Rete Lilliput e il WWF. Quindi ci sono parecchie associazioni, anche qualificate, che ci lavorano attorno a questo calcolo per vedere quanta terra ci vorrebbe per mantenere certi tenori di vita. Ebbene, qui hanno fatto un calcolo nel 2006, con il tipo di tenore di vita che abbiamo noi in Italia, ci vorrebbero due terre, due italie e mezza. Quindi stiamo sperperando, cioè per avere questo ritmo di consumi e per rigenerare quello che la terra biologicamente ci può dare, ci vorrebbero due i taglie e mezza. E poi si parla ancora di aumento della produzione. Ci sono dei limiti, proprio loro, quelli dell'impronta ecologica, dicono che hanno dei limiti di calcolo, dicono sì, ha parecchi limiti. Questi limiti sono dati da parametri che non riusciamo a calcolare, tipo per esempio quanto ci vuole per decantare le scorie radioattive prodotte dall'energia nucleare o per esempio quando finirà il petrolio, con che cosa dovremmo andare a sostituirlo, con tutte quelle risorse naturali che oggi sperperiamo soltanto per una questione di profitto. ma oltre a questo, a conferma di questo, al 29 settembre di quest'anno un articolo di Fulco Pratesi parlava di surriscallamento della terra e quindi dice che abbiamo la differenza di anidride carbonica all'anatomosfera superato recentemente la concentrazione di 400 parti per milione. Si è così oltrepassata da poco più di due secoli, da quando questa era di 280 parti per milione, la soglia oltre la quale i danni potrebbero essere irreversibili. Una simile quantità di CO2, stando alle analisi stratigrafiche, era presente infatti nel Pliocene più di 2 milioni anni fa, quando la temperatura globale era di 3 o 4 gradi più elevata. I mari più alti di molti metri e i primi o medidi battevano le savane tra mastodontici tigri dai denti a sciabola. La prospettiva è che la temperatura della terra possa ancora crescere fino a raggiungere l'aumento di 4 gradi oltre i quali la situazione non sarebbe più controllabile, preoccupa i ricercatori, i quali ormai superando posizioni negazioniste ne ammettono la gravità e chiedono un cambiamento di rotta all'umanità. Ecco questa è la situazione, quindi il fatto che, come dicevo prima, il fatto che possa piovere abbondantemente è un fatto naturale, che esistano alluvioni, è un fatto sociale. Su questo, per quanto riguarda questo, io volevo leggervi brevemente una cosa che scriveva Amedeo Bordiga su questo libro, Drammi gialli e sinistri della moderna decadenza sociale. Questo libro è datato nel 78 e riporta scritti di Amedeo Bordiga del 51 e diceva che piova senza sosta o non piova affatto per intere settimane e oggi certamente è un fatto naturale, ma che ne segua un'inodazione o una siccità è un fatto sociale. Analogamente le scosse sismiche delle onde sfuggono dal controllo umano, ma il fatto che distruggano le città del Perù, mentre Machu Picchu vi risiede da secoli, ha cause sociali. Nei suoi studi Marx ha mostrato che le grandi carestie che devastarono l'India, e quelli di oggi falciderano l'Africa, non erano dovute a cause naturali, ma alla penetrazione del capitalismo, che non solo portava alla rovina l'artigianato locale, ma minava l'agricoltura introducendo la proprietà privata del suolo, imponendo allo Stato centrale di svolgere il suo ruolo di regolatore e distributore delle acque. Quindi non solo la civiltà borghese può essere causa diretta di queste catastrofi, per la sete di profitto e per l'influente perdomino dell'affarismo della macchina amministrativa. Quindi oggi gli scandali amministrativi sono all'ordine del giorno, ma si rivela impotente ad organizzare una protezione efficace nella misura in cui la prevenzione non è un'attività redditizia. Ecco cos'è che muove questa società che dovremmo cambiare, non dovrebbe essere più il profitto la base per cui questa società produce. Allora che tipo di società vogliamo? Forse qualcuno si tedia quando leggo sempre alcuni passi di Marx, allora leggiamo di un personaggio più importante, più conosciuto da tanti, che è quello di Albert Einstein. Nel suo libro Perché il socialismo, apparso nel 1944, e guardate che è reperibile gratuitamente anche su internet, quindi potete anche leggerlo tranquillamente, lo scienziato tedesco sottolineava chiaramente come solo un sistema economico organizzato scientificamente, che renda sociale la proprietà di mezzi di produzione, possa garantire la fine di guerra e povertà. Ora leggo quello che poi potete anche leggere insomma. L'anarchia economica della società capitalistica, quale esiste oggi, rappresenta secondo me la vera fonte del male. Vediamo di fronte a noi un'enorme comunità di produttori, i cui membri lottano incessantemente per spogliarsi a vicenda dei frutti del lavoro collettivo. Si produce per il profitto, non per l'uso. Non vi è alcun provvedimento grazie al quale tutti coloro che possono e vogliono lavorare ne abbiano sempre la possibilità. Esiste quasi sempre un esercito di disoccupati. Il lavoratore ha sempre la paura di perdere il proprio posto di lavoro. Dato che i disoccupati e i lavoratori mai retribuiti non rappresentano per i beni di consumo un mercato vantaggioso, la produzione di tali beni ne risulta limitata, con un conseguente grave danno. Il progresso tecnologico si risolve frequentemente in un aggravamento della disoccupazione piuttosto che un alleggerimento della quantità di lavoro per tutti. Il movente del profitto, congiuntamente alla concorrenza fra i capitalisti, è rappresentabile da un'instabilità nell'accumulazione e nell'impiego del capitale che conduce a depressioni sempre più gravi. La concorrenza illimitata porta ad un enorme spreco di lavoro e a quelle storture della società sociale dei singoli individui di cui ho parlato prima. Allora lui cosa propone? Sono convinto che vi è un solo mezzo per eliminare questi gravi mali, e cioè la creazione di un'economia socialista congiunta a un sistema educativo che sia orientato verso obiettivi sociali. In una tale economia i mezzi di produzione sono proprietà della società stessa e vengono utilizzati secondo uno schema pianificato. Un'economia pianificata che equilibri la produzione e la necessità della comunità, distribuibile il lavoro fra tutti gli abili del lavoro e garantirebbe i mezzi di sussistenza a ogni uomo, donna o bambino. Verso questo tipo di società bisogna andare, altrimenti come i dati che vengono tenuti anche nascosti allarmanti di istituti o di enti che si dedicano all'ambiente ci porteranno, ci daranno veramente qual è la nostra fine. Grazie per avermi ascoltato e ci sentiamo alla prossima. Riprendiamo in studio, ringrazio Giovanni Sjaolin per queste spiegazioni che ci fanno davvero riflettere. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Prossimo appuntamento con Pineta Oggi Report, a tra una settimana.